Strage in un mercato nel nord-ovest della Cina, preceduto da due esplosioni, un attacco all'arma bianca a Kashgar nello Xinjiang, sei morti e 28 i feriti tra i passanti, un assalitore ucciso e un altro arrestato, entrambi di etnia uiguri. La regione registra da tempo gravi violenze razziali tra uiguri e Han, maggioritari nel paese. A otton violenti scontri si sono avuti il 18 luglio scorso e nel 2009 centinaia di morti e feriti a Urumqi nel conflitto tra operai cinesi e uiguri.